Ciao amici di All4shooters, sono Franco e questo è il nuovo treppiedi della KJI modello K800 in fibra di carbonio con la testa Reaper. Si tratta di un treppiedi per il tiro specificamente concepito per il sostegno e il supporto di una carabina che i tiratori sportivi per esempio di PRS oppure di tiro a lunga distanza ma anche gli operatori professionali troveranno assolutamente irrinunciabile. Si tratta di un treppiedi che consente il brandeggio di un'arma lunga a 360 gradi con un certo grado di inclinazione in cui tutti i movimenti sono controllati per la frenatura e quindi anche la dolcezza con cui si possono spostare da una serie di manopole. Il KJI che vediamo qua ha anche una piastra opzionale che consente il montaggio coassiale all'ottica dell'arma di un'ottica aggiuntiva oppure di altri accessori come per esempio un telemetro laser oppure una stazione meteorologica Kestrel. In questo caso noi ci abbiamo messo uno Spective Leupold Gold Ring che consente anche una buona stima delle distanze. Come arma abbiamo montato una Unique Alpine UPG1 in calibro 308 Winchester dotato di ottica ZC 420 della ZCO della Zero Compromise Optics. Il costo di questo treppiedi è intorno ai 750 euro con preso di testa ma con circa altri 60-70 euro per la piastra opzionale per l'ottica. È possibile acquistarlo con la versione REA per universale che quindi consente di montare praticamente qualsiasi carabina oppure con le opzioni sempre allo stesso prezzo per rotaia arca Swiss oppure rotaia Picatinny. Alla fine è abbastanza leggero consente il tiro non solo in piedi ma anche seduto perché l'altezza è chiaramente regolabile grazie alle tre sezioni telescopiche delle zampe e in pratica una volta chiuso è sufficientemente compatto e leggero per poter essere messo a fianco della nostra borsa da tiro e trasportato ovunque noi vogliamo andare a tirare. Continuate a seguire all4shooters.com se avete dei commenti postateli qui sotto.